Tra poche ore ci sarà questa importante sfida con il Chievo, però si parla ancora di quanto è accaduto a Genova qualche giorno fa. Il presidente Preziosi ancora una volta ne ha approfittato per parlare del Pescara. Dice il presidente Sebastiani, ama giocare a pallavolo. Ma io penso che il Pescara, più che il presidente Sebastiani, piace lo sport in genere. Però il Pescara penso che giochi molto bene al calcio e probabilmente qualche altra squadra invece gioca a calci. Perché per trovarsi con tante espulsioni evidentemente non è sicuramente un capriccio degli arbitri. Quindi io mi tengo il mio Pescara che gioca a calcio e lui continuasse a giocare come vuole. Settimana prossima per chiudere, presidente, probabilmente verrà discusso il ricorso del Sassuolo sulla vittoria a tavolino data al Pescara per la gara del MAPEI Stadium fiducioso? Io continuo a leggere dichiarazioni dappertutto che tutti quanti sono fiduciosi. Il Pescara, siccome non è stato il Pescara a fare nessun ricorso, a chiedere i tre punti. Ma sono arrivati grazie al fatto che probabilmente ci sono le regole e c'è qualcuno che le fa rispettare. Se dovesse essere il contrario sicuramente ci sarebbe qualcosa da rivedere perché le regole si fanno prima, si discutono, si approvano. Poi non è che si contestano nel momento in cui vengono applicate per qualcuno. Se uno ha sbagliato forse sarebbe qualche volta il caso di dire ho sbagliato, facciamo prima.